Stanno accadendo cose gravissime e molto preoccupanti che mettono a rischio l'intero sistema democratico. È un momento buio per la democrazia. Il presidente della Camera Gianfranco Fini, in un colloquio con il messaggero, anticipa quanto dirà nel videomessaggio che oggi sarà trasmesso sui siti di Generazione Italia, Secolo d'Italia e Libertiamo, determinato a dire la sua verità sulla vicenda di Monte Carlo, a suo dire soltanto una manovra per screditarlo. Quella che abbiamo davanti, dice Fini, è una sfida all'Ok Corral, un combattimento all'ultimo sangue, me ne rendo conto, ma non mi lascerò sconfiggere senza combattere. Anzi, mi batterò con ancora più forza perché assicura la terza carica dello Stato, non ho nulla da temere e di sapere che è tutta una montatura, un falso bello e buono. La magistratura lo proverà, basta aspettare.